coltello bowie bowie knife è un coltello miltech con impugnatura in micarta micarta è un impasto composito molto molto resistente con cui vengono rivestiti addirittura i cavi dell'ener lama in acciaio satinato acciaio 440 così come guardiamano che è in acciaio sempre satinato notevole spessore la lunghezza i 27 centimetri circa la lama è full tang procede nella manicatura per tutta la lunghezza e c'è un blocco rivettato qua in acciaio e un altro in ottone che funge anche da passante per eventuale cavetto l'impugnatura è zigrinata per una maggiore presa ha un bel fodero il fodero è in cuoio neutro grezzo questo può cambiare di colore anche stando in magazzino potrebbe essere così come potrebbe essere anche molto più chiaro o addirittura molto più scuro ha una bella cucitura un bottone automatico di chiusura un povero semplice ma di buona fattura un passante alto 5 centimetri sempre in cuoio questo è possibile anche tingerlo nei colori desiderati quanto essendo neutro si presta a qualunque opzione Mostrazione Non a